Buonissimo, c'è un po' l'erba, c'è un pezzo. C'è un po' l'erba, c'è un po' l'erba, c'è un po' l'erba. 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 Grazie a tutti. Ecco il cane da guardia. Qua vedi un po' di quarzi, tondi, piccoli. Quando uno si prepara la asciuga a mano, qualcuno decide escavare la galleria. Basta, guarda dove ti butti la sabbia. Cosa c'è di dentro? Cosa c'è? 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 Grazie a tutti.